Saluto a tutti gli amici e amiche della Serbia, io sono l'anchietto Luigi Valerio e volevo innanzitutto ringraziare la Fondazione Dana con l'amica Marina che ci ha dato la possibilità di poter inserire questo progetto nostro su Leonardo 500 della morte del grande genio, la struttura che ci ospita, compreso le amministrazioni che hanno dovuto darci questa grande possibilità e gli amici che parleranno di Leonardo. Credo che sia una delle iniziative più belle e interessanti perché Leonardo certamente è stato un genio, un scienziato, un vittore notevole e quindi da questa mostra che vedrete che abbiamo voluto rappela effettivamente chi è il personaggio che va oltre quello che è conosciuto. L'obiettivo era divulgare oltre al sistema Italia che io rappresento come le canavale italiane, il centro culturale che si occupa di mare, di cultura e quindi rientra benissimo il Leonardo 500 ma soprattutto portare all'estero questa conoscenza perché è estremamente importante nel discorso della diffusione e della divulgazione. Chiaramente a breve sarò lì, spero di rincontrarvi in persona e quindi ci rivediamo. Grazie a tutti e buon lavoro per l'inaugurazione della vostra ed eventuale conferenza. Grazie a tutti, ciao! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti